Buongiorno signora Neri. Buongiorno Stefano. Siete pronta per la vostra lezione di esercizi? Sì, so quanto sia importante l'esercizio regolare. Cerco di farlo più spesso possibile. È bello sentirlo. Molte persone difficilmente fanno spesso esercizio ed altre non lo praticano affatto. Io cerco di fare esercizio nella maniera più regolare possibile, ma qualche volta mi sento un po' troppo stanca. È bene che mi teniate in allenamento. Se fate spesso esercizio vi sentirete più in salute. Sono d'accordo. Lo dico spesso alla signora Cherry. Penso che dovrebbe fare esercizio più regolarmente. Forse può chiederle di venire a questo corso di esercizi. Sono sempre contento di vedere più persone qui. Oggi voglio che faccia alcuni esercizi da seduta. Vi siete scaldata prima che arrivassi? Sì, l'ho fatto. Se non ti scaldi bene, poi potresti farti male. È vero. Ora voglio che seguiate le mie istruzioni. Ok. Sedetevi. Tenete la vostra schiena dritta e mettete entrambi i piedi appoggiati al pavimento. Siete comoda? Sì. Incrociate le braccia e toccatevi le spalle. Così. Sì. Ruotate il corpo e guardate alla vostra sinistra. Contate piano fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ora tornate alla posizione di partenza. Ruotate il corpo e guardate verso destra. Contate piano fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ripeta questo esercizio per 3 minuti. Rilassatevi. Lasciate giù le braccia lungo i fianchi. Siete comoda, signora Neri? Sì, un po' accaldata, ma sto bene. Ok. Faremo un esercizio per le sue gambe. Normalmente faccio questo esercizio quando sono seduto e sto aspettando qualcosa. Rimanga seduta. Metta le mani sul lato della sedia. Così. Sollevi una gamba. Mantenga il ginocchio piegato. Non sollevi la gamba troppo in alto, altrimenti le farà male. Conti piano fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Abbassi lentamente il piede a terra. Si sente bene? Sì. Mi piace questo esercizio. Bene. Continui per 3 minuti. Prima la gamba sinistra, poi la gamba destra. Rimanga seduta. Metta la mano destra sulla spalla sinistra. Inclini leggermente la testa verso la spalla sinistra. Così. Conti piano fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Ora tiri sulla testa piano. Si sente bene? Sì. Raramente faccio qualche esercizio per il mio collo. Quindi questo è un buon esercizio. Continui per 3 minuti. Giri la testa verso sinistra e verso destra. Abbiamo quasi finito, signora Neri. Dobbiamo solo fare un po' di stretching. Se non vuole farlo, si sentirà molto rigida o dolorante il giorno seguente. Sì, lo so. Lo faccio sempre dopo gli esercizi. Prego, si alzi. Per farlo, faremo un po' di camminata leggera sul posto. Non si muova troppo velocemente. Ok, signora Neri. Penso sia abbastanza per oggi. Grazie, Stefano. Penso che ora mi farò una doccia e dopo mi rilasserò nel pomeriggio. Quando è la prossima lezione? Martedì. Quando viene la prossima volta, proveremo alcuni esercizi diversi. Perché non chiede alla signora Cherry se vuole venire alla lezione? Sì, penso che lo farò, anche se raramente fa qualche esercizio. Se l'avesse fatto, non credo che si sentirebbe così stanca tutto il tempo.